Guarda com'è facile da fare la mortadella impanata, un antipasto facile, sfizioso ed economico. Ha una panatura croccante e la puoi cucinare poi in forno, friggitrici ad aria o anche friggere. Taglia la mortadella a pezzi. Poi passala prima nella farina. Poi nell'uovo sbattuto e per ultimo nel pane grattugiato. Taglia la mortadella a pezzi. Sistemala nella teglia, spruzzala con dell'olio. Poi falla cuocere a forno ventilato già caldo, 190 gradi per 15 minuti. Poi girala e falla cuocere per altri 10 minuti. Oppure in friggitrici ad aria, 190 gradi, 15 minuti e giri a metà cottura. E se la provi, fammi sapere.